Prima canalizzazione. Ungheria. 28 aprile 2018. Saluti, miei cari, sono Crayon del Servizio Magnetico. Siamo su un battello, sospesi dalla Terra e ogni volta che questo accade vi facciamo una dichiarazione. In questo momento non avete i piedi per terra, vi state muovendo in gruppo sull'acqua e, potreste non pensarla così, ma questo influenza le cose attorno a voi. È molto facile, molto più facile per voi essere in uno stato d'animo riflessivo sull'acqua. Forse vi sono molti che ascolteranno questa canalizzazione in futuro. La canalizzazione è soprattutto per la cultura in cui mi trovo e cioè la cultura ungherese. Non il paese, ma la cultura. E desidero parlare della destinazione oggi, di dove sta andando il battello. Desidero parlare un po' degli attributi di ciò che è qui. Alcuni di voi percepiscono che siamo diretti verso un chakra, un portale e, in alcune parti di questa cultura è famoso per questo. Vorrei parlare un po' di cosa è e di cosa non è. Innanzitutto, questo è un luogo noto per l'intersezione di molte ley lines. Ma se chiedete a qualcuno cosa sia una ley line, vi potrebbero essere molte risposte. La ley line è un principio esoterico, quindi, invece di definirla, lasciate che ve ne dia una visione d'insieme. La ley line è causata dall'umanità e dalla coscienza umana, mette in collegamento cose che sono umane, a volte collega edifici, a volte mette in collegamento luoghi in cui vi sono delle guarigioni, a volte collega l'energia del territorio creata dagli umani, a volte le ley lines portano persino nomi di coloro che sono umani. Dunque non si tratta dell'energia del pianeta, l'energia di Gaia, che è molto diversa. Sentirete più tardi alcune definizioni delle griglie, ma le ley lines sono diverse. Appartengono a voi, sono create dall'umanità. Allora avrebbe senso, per voi, che mentre l'umanità cambia, le ley lines possono anch'esse cambiare. Alcuni hanno chiesto. Allora a che cosa servono? Perché esisterebbero? Perché collegate un genere di cose a un altro? Ah, ah! Non otterrete una risposta che sia molto soddisfacente. Bene darò una più tardi e parterrà a voi, ungheresi. Questo luogo in cui stiamo andando possiede una straordinaria intersezione tra molte ley lines. Ora, voglio mostrarvi una cosa. Questo non è un luogo di culto. È un luogo sciamanico. Quanti di voi conoscono degli ungheresi sciammani? Molto tempo prima di qualunque religione, questo luogo era conosciuto e celebrato per l'intersezione di molte ley lines. Dunque, pensate per un attimo cosa succede là oggi alle persone che si mettono in fila e vanno in un luogo e si inginocchiano, piangono e soffrono. Guardano la storia e piangono pressa? C'entra qualche profeta? E la risposta è, no. Cosa sta succedendo là oggi? È un centro di gioia, per coloro che potrebbero celebrarla e vedere Gaia, per trascorrere la notte e celebrare il portale che è, per ridere e mangiare insieme alle proprie famiglie, per via dell'energia sciamanica che c'è là. E se vi dicessi che oggi l'energia è diversa da alcuni anni fa? Vi siete mai domandati quanto sono lunghe le ley lines? Siete all'intersezione di molte di esse quando siete là, le persone lo hanno percepito per anni, gli ungheresi gli hanno perfino dato un nome. La pietra che pulsa, il chakra del cuore. Che significato ha il cuore per te? E? Essere umano, il cuore è sempre stato compassione e amore. Presto, molto presto, avrò qualcosa di più da dirvi su questo. Risponderò a queste domande in maniera esaustiva. Quindi, passiamo da questo argomento al prossimo. Metterò insieme queste due cose tra un momento, quando raggiungeremo la nostra destinazione. Ungheresi, come vi sentite riguardo alla vostra storia? Più di quello che vi raccontano i vostri libri di testo, cosa vi hanno raccontato i vostri genitori? Cosa vi hanno raccontato i vostri nonni? La cultura era sempre detenuta da qualcun altro. Siete stati sfruttati per così tanto tempo, che significa che siete stati organizzati da altri. La dolcezza degli ungheresi non ha mai potuto approvare la conquista, la cultura non ha mai prevalso su coloro che vi avrebbero soppresso. Ah, ah, e questo cambierà. Questo è ciò di cui vogliamo parlare. C'è qualcosa che chiamiamo un pregiudizio storico. La storia crea un pregiudizio, specialmente se si tratta di una storia di sofferenza, di un conquistatore dopo l'altro, di avere una bellissima nazione divisa in varie parti. E il pregiudizio è questo. Avete la tendenza ad aspettarvi le stesse cose, perché la storia ha una tendenza a ripetersi. Ecco un tema comune di Crayon. C'è stato un cambiamento su questo pianeta, che è stato predetto, e, dal 2012, le cose sono cambiate e mutate, persino qui. È possibile che perfino le ley lines siano cambiate. La pietra pulsante potrebbe aver mutato il suo obiettivo? Questa è l'istruzione che ho per voi. Ungheresi, non lasciate che la storia definisca il vostro futuro. Ho un motivo per questo, per dirvelo fra un po', quando ricominceremo. C'era un famoso romanziere umano, era un irlandese, si chiamava James Joyce, ed ecco cosa affermò. La storia è come un incubo, dal quale cerco sempre di svegliarmi. Ascoltatemi, ungheresi. Voi vi siete appena svegliati. La storia non definirà più questa cultura e questo è ciò di cui vi parlerò la prossima volta che ci incontriamo. Che informazione profonda è questa, per questo gruppo e questa cultura? Alcuni di voi lo stanno già sentendo. Questo è tutto, per questa parte. E così è.